Gli investigatori hanno sequestrato la scatola nera di uno dei due mezzi coinvolti nel tragico incidente di giovedì sera a Canosa di Puglia sulla strada provinciale 21 in cui hanno perso la vita i giovani canosini Antonio Lovino e Domenico Di Nunno all'età di 16 e 17 anni. Il dispositivo elettronico sul quale verranno effettuati accertamenti potrebbe aiutare chi indaga a ricostruire la dinamica esatta del sinistro che ha coinvolto la moto sulla quale viaggiavano i ragazzi e il furgone con alla guida un uomo di 44 anni di barletta. E intanto c'è attesa per capire quando potranno essere celebrate le esequie delle due giovani vittime i cui corpi attualmente si trovano presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari a disposizione dell'autorità giudiziaria e per una prima ispezione cadaverica eseguita dal professor Antonio De Donno la procura di Trani riceverà nelle prossime ore il verbale con tutti i rilevi effettuati dalla polizia locale di Canosa solo allora il PM scioglierà la riserva e deciderà se procedere o meno con l'autopsia e se aprire quindi un eventuale fascicolo d'indagine per omicidio stradale prima di quel momento non sarà possibile stabilire una data esatta per i funerali giorno in cui vigerà il lutto cittadino così come annunciato dal sindaco Vito Malcangio nel suo messaggio di cordoglio ai familiari a Canosa intanto sono stati annullati tutti gli eventi estivi del fine settimana l'intera città si è raccolta attorno al dolore delle due famiglie a Canosa intanto sono stati annullati tutti gli eventi